Se si allena in media 2-3 volte a settimana per una giurata massima di 2 ore circa, non impena più energia di un normale gioco di incognimento. Cioè, il dispermio energetico orario medio non supera le 300-600 kcal. Adesso mi sto riferendo a una media veramente dei dati. Poi, se volessimo parlare nello specifico del calcio come tipo di sport, relativamente a quel tipo di allenamento che leggete all'inizio in atto, stiniamo che si tratti di un dispermio energetico orario medio di 400 kcal. Quindi è essenziale evitare, di sovraggvantare l'effettivo dispermio energetico dell'ambito della pratica sportiva. Ripeto, abbiamo valente precedenza. Il 25% è quello che è il contributo della pratica sportiva al frutto. Poi, se le scelte sono differenti, non sono corrette, diciamo, anche semplicemente a livello alimentare, non soltanto quanti tergamente, ma quali tergamente ha la differenza in maniera straordinaria, sicuramente possiamo...